Facciamo vedere oggi questo nuovo lifting con i prodotti FIDORGA, NCPF e FILLERY UNIVERSAL per questo dimagramento delle guacce. Quindi abbiamo messo una FIDORGA UNIVERSAL, NEL NCPF, 4 MESLE TOTALI. Entrata e poi possiamo fare da qui primo vettore, secondo, terzo, quarto vettore. Di qua lo stesso. Due, due e due dall'altro buchino. Così lo apriamo un po' il buco. Pian pianino cerchiamo il sottocute con delicatezza. Se devi girare e fare un altro tunnel devi uscire, cambiare direzione e adesso vai giù. Se tu non cambi direzione rimani nello stesso tunnel. Tirti fuori due cc di liquido, altra siringa. C'è un'altra piccola, ottimo. Com'è? Uniforme? Non troppo profondo. Tira bene la cute. Come va una sensazione di dolore? Zero. Ed eccoci qui per le conclusioni da una ventosa Londra. L'idrolifting tridimensionale con NCPF e Arfiller Universal è veramente la tecnica perfetta per volumizzare e idratare. Ottima per gli zigomi, ottima per le guance, ottima per le mani. Io vi ringrazio per essere stati con me e spero di vedervi quanto prima per la descrizione di una nuova tecnica. Grazie.